DJ, ma che disco è? E' la pizza! DJ, ma che disco è? E' la pizza! Assaggia questo pezzo! Il Pizza Festival di Tortora ha fatto 13, non per qualche fortunata vincita, ma per il numero delle edizioni che si sono susseguite negli anni e che sono state organizzate dalla sezione tortorese dell'Associazione Pizzerie Italiane con a capo il presidente Francesco Matelicani. Questa sera dunque in Piazza Stella Mari salvia la tredicesima edizione che durerà fino a domenica e che accoglierà turisti e non in queste serate di fine estate. La formula dell'edizione 2014 non si discosta da quella degli anni passati. Buona pizza e buona musica in compagnia e tanta allegria a fare da contorno alle gustose pizze preparate dal team Matelicani. Tra le serate che come ogni anno risultano molto richieste e apprezzate dai tortoresi e dai vacanzieri di settembre. Dunque ultime ore di preparazione all'evento, poi tutti pronti ad assaggiare le pizze più gustose. Comunque, se non hai un girapizza, non hai fatto un grande sbaglio. Spingi dentro l'autoradio, una buona pizza al taglio! DJ 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 DJ